Ciao a tutti, sono Marta Fovana, istruttrice fitness e personal trainer. Oggi volevo proporvi alcuni esercizi per i muscoli addominali che potranno essere svolti successivamente al parto. Per riprendere ad allenare gli addominali bisognerà iniziare con degli esercizi più semplici. Una volta che si riuscirà a portarli a termine si potrà iniziare con quelli più complessi. Allora iniziate sollevando semplicemente una gamba e abbassandola. 8 ripetizioni per 3 serie alternando le gambe. Una volta che riuscirete a fare queste serie senza problemi potete fare quella un pochettino più difficile ovvero allargate le braccia per avere maggiore stabilità e sollevate entrambe le gambe da terra. Anche in questo caso 3 serie per 8 ripetizioni ciascuna. Una volta che siete riuscite a fare correttamente l'esercizio precedente si può passare a questo. Piego la gamba, stendo, piego, stendo. 8 ripetizioni per 3 serie alternando con l'altra. Potete aumentare la difficoltà portando entrambe le gambe in alto e distendendone una, solo una. Iniziate solo sempre con una. 8 ripetizioni per 3 serie, anche in questo caso alternando. Una volta che riuscirete a completare questi esercizi si potrà iniziare ad allenare gli addominali come una volta. Il primo esercizio, il classico, è il crunch. Quindi mani dietro la nuca, sollevare le spalle da terra. 3 serie per 8 ripetizioni ciascuna. Sollevate le gambe e facciamo gli addominali in 4 tempi. Scendo, scendo, salgo, salgo. Anche in questo caso 8 ripetizioni per 3 serie iniziando prima con la destra e poi con la sinistra. Perfetto, abbiamo finito con questo appuntamento con gli addominali postparto. Buon allenamento!